Mi hanno detto che non si può lasciare follonica se sa passare da Termopoglia. Il Termopoglia è un wine bar molto particolare, aperto tutti i giorni tranne i lunedì e il venerdì fa un aperitivo particolarissimo a base di sushi. Quindi aperitivo, wine bar, ristorante, sushi bar, come me l'hanno consigliato a me, sicuramente piacerà anche a voi. Quindi vi aspettiamo qui a Termopoglia. Grazie per la visione!